Formazione è formazione continua perché una società che si rispetti e che abbia cura di se stessa punta molto sulla formazione. Sicuramente non soltanto per inoccupati e disoccupati ma oggi abbiamo la riprova di quanto il Formedil giochi un ruolo fondamentale con questo corso di formazione che si è appena concluso proprio per i giovani. Quindi purtroppo possiamo tirare su una statistica rispetto all'occupazione di adesso. Molto probabilmente fra dieci anni ci troveremo senza personale nelle imprese perché ormai l'età è diventata molto avanzata. Quindi è di cruciale importanza per questa società ma anche per l'edilizia puntare su i giovani e formarli continuamente. Il corso per tecnici di cantiere, il corso IFTS finanziato dalla Regione Puglia si è concluso il 3 novembre e ha visto la partecipazione di 11 tra ragazze e ragazzi che hanno conseguito questa qualificazione e questa specializzazione. Il corso è durato 800 ore, 400 delle quali sono state fatte in alternanza in stage presso le aziende e anche la parte teorica di 400 ore ha avuto una componente molto importante laboratoriale e operativa. Questi sono stati gli elementi di competitività del corso che hanno consentito un elevato successo dell'iniziativa che ci porta ad avere anche dei ragazzi che appena terminato il percorso hanno già trovato occupazione. Il cantiere è sempre stata una figura centrale nel nostro mondo e purtroppo in quest'ultimo periodo abbiamo carenze di geometri di cantiere. Quindi con questo corso abbiamo pensato di incentivare un po' i ragazzi a avvicinarsi al nostro mondo chiamando il corso Cantiere Intelligente proprio per far capire che oramai il geometra di cantiere, la vita di cantiere è cambiata. Ci sono tutta una serie di aggiornamenti sia dei materiali sia delle attrezzature che rendono il cantiere un luogo molto più leggero e molto più dinamico e con questi corsi vorremmo sopperire il problema che abbiamo come imprese di costruzione per reperire giovani e mano d'opera specializzata per poter dare cambio alle vecchie generazioni. Quindi come Formedil e come Ance stiamo spingendo molto in questa direzione e speriamo di avere una risposta immediata da parte dei ragazzi. Ho fatto questa iscrizione a questo corso perché lo ritenivo molto interessante anche a livello professionale. Ho un'esperienza a dire poco ottima anche perché le 400 ore fatte in aula con le 400 ore in seggi in azienda hanno portato i loro frutti. Naturalmente sono stato anche assunto da un'azienda dove ho fatto il mio seggi. È un diploma molto ma molto utile anche perché ha aumentato il mio bagaglio professionale di esperienza. Sono rientrato in un'azienda dove in 24 anni di attività non ho mai svolto quel tipo di esperienza. Adesso mi trovo abbastanza bene quindi proseguo e questo è stato molto utile. Grazie a tutti.